Buongiorno ragazzi, eccoci a un nuovo episodio legato ai dispositivi, ai componenti che possiamo collegare ad arduino quest'oggi è toccato praticamente ai joystick, quindi vediamo questo componente molto famoso soprattutto per quanto riguarda le console, il computer o altro quindi un dispositivo legato più che altro al gioco Allora il joystick come è fatto? Abbiamo ovviamente questa leva centrale che si può muovere diciamo più o meno liberamente lungo le due direzioni, avanti, indietro, destra e sinistra, in più ho la possibilità di cliccare un tasto Come è fatto? Quindi se riusciamo a togliere un attimo il coperchio il suo funzionamento è abbastanza semplice possiamo vedere che vedete che rotando in questo caso quindi destra e sinistra io sto muovendo qua un potenziometro, quindi esattamente quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti quindi ne ho uno per l'asse orizzontale e l'altro per l'asse verticale in più ho un pulsante, un semplice bottone, anche questo l'abbiamo visto nelle nostre lezioni che quando clicco diciamo la parte centrale del joystick lui praticamente va a fare il rumore ma quindi a cliccare all'interno praticamente di questo pulsante Da punto di vista della piedinatura possiamo dire che lui ha praticamente 5 piedini li vediamo nell'ordine, partendo da destra abbiamo GND, GND, abbiamo i 5V poi abbiamo l'asse X, l'asse Y e SW invece lo switch, quindi il collegamento del pulsante centrale Come si collegheranno questi? Beh conosciamo già tutto dalle lezioni precedenti quindi abbiamo visto un potenziometro, il potenziometro dell'asse X e dell'asse Y sono evidentemente, come abbiamo visto per gli altri potenziometri, dei collegamenti ai pin analogici i pin analogici ricorderanno quelli che lavoravano a 10 a 10 bit quindi 2 alla 10 abbiamo parlato di 1024, 1024 configurazioni da 0 a 1023 quindi collegandolo al pin analogico sia per l'asse orizzontale che per l'asse verticale la posizione per utilizzarlo è questa quindi questo è l'asse orizzontale e questo è l'asse verticale con un'escursione, quindi lui adesso sta al centro, diciamo che si chiama posizione di riposo se vado praticamente a sinistra allora il potenziometro andrà verso 0 se vado verso destra andrà al suo valore massimo cioè 1023 stessa cosa per quanto riguarda l'asse Y, quindi l'asse verticale se vado verso il basso va a 0, se vado verso l'alto va a 1023 per quanto riguarda invece il pulsante, semplicemente noi avremmo la sensibilità di capire quando sta praticamente clicca, quando sto cliccando, quindi quando arrivano in pulso quando clicco, quindi a questo punto come abbiamo visto nella lezione possiamo pensare di usare una variabile stato, se voglio accendere dopo un po' spegnere, ok? oppure se voglio semplicemente ad esempio in un videogame voglio sparare quando clicco parte il pulsante e spara vedremo comunque l'applicazione quando passiamo poi a Mblock quindi cerchiamo di capire, di riassumere un attimo la piedinatura e i vari collegamenti se qua si vede, quindi abbiamo GND, il piedino quindi ho 5 piedini 5 piedini, quindi GND va evidentemente a massa il VCC va a 5 volt e più di piedino di Arduino per questo è l'asse X, il primo è l'asse X quindi andrà ad esempio al piedino analogico a 0 questo è l'asse Y, andrà al piedino analogico ad esempio a 1 mentre questo che è il mio switch, il mio pulsante andrà a un piedino digitale, supponiamo che so, al pin 2 quindi il circuito è abbastanza semplice da realizzare io purtroppo non ho dei cavi femmina da collegare qua quindi devo usare lo stesso cavo, quindi gli stessi colori però colleghiamoli uno alla volta quindi qua ho i primi 3 che sono nell'ordine quindi il nero a GND, il rosso a massa e il bianco all'asse X vado a mettere tutto praticamente su una breadboard quindi abbiamo detto, colleghiamo qua ad esempio in un punto qualunque della breadboard questo deve essere un attimo lontano per poterci lavorare per poter giocare quindi vado ad esempio a collegarlo al mio Arduino quindi abbiamo detto che il nero in questo caso deve andare a GND alla massa quindi prendiamo un cavetto nero di massa quindi il nero è quello più a destra va ammesso al mio GND che è questo per quanto riguarda il rosso che è il centrale va messo ai 5V quindi prendo il rosso e lo vado a collegare ai 5V di Arduino dopodiché abbiamo l'asse X abbiamo detto quindi l'asse X lo metto sul piedino analogico a 0 lo schema è questo l'asse X va su a 0 quindi questo sarà il filo bianco va su a 0 a questo punto colleghiamo il secondo cavo che è praticamente agli stessi colori quindi lo rimettiamo così e in questo caso l'asse Y non sarà il nero di quest'altro quindi lo metto qua a fianco il nero di quest'altro va sull'asse Y quindi prendiamoci un altro connettore quindi il nero va sull'asse Y quindi abbiamo detto A1 e qua abbiamo il pulsante il pulsante invece abbiamo detto lo mandiamo sul P2 però attenzione il pulsante dobbiamo fare una considerazione diciamo che il pulsante non ha un riferimento quindi non si accorge di quando è premuto o quando non è premuto si mette in questo caso una resistenza possiamo metterla collegata a massa o ai 5V noi la proveremo a collegare ai 5V si dice che è una resistenza di pull up perché è collegata appunto ai 5V non stiamo a spiegare tanto del suo significato ma semplicemente serve per stabilizzare quello che io sto misurando qua sul mio su Arduino in realtà quindi mettiamo una resistenza mettiamo una resistenza ad esempio da 10K e la mettiamo diciamo dove c'è il connettore del piedino del tastino quindi SW che è quello rosso del secondo gruppo quindi questo rosso lo vado a collegare ai 5V che è il rosso di Arduino ok se riesco ok e questo è collegato bene a questo punto non resta il collegare Arduino quindi passare al computer e lavorare con Mblock per vedere che cosa ci sta producendo passiamo al computer bene eccoci nella parte del computer quindi colleghiamo il nostro Arduino siamo praticamente qua in Mblock quindi andiamo nella voce collegare dalla porta seriale scegliamo la COM5 e verifichiamo dalla sezione robot ok siamo collegati bene possiamo iniziare la nostra fase di programmazione come sempre il primo blocco che aggiungiamo sarà quello di programma Arduino visto che ci stiamo interfacciando con Arduino e come seconda cosa quella che facciamo sempre è organizzare un blocco per sempre un ciclo per sempre perché durante tutto il nostro esperimento vogliamo fare delle cose ricordiamo cosa dobbiamo fare sicuramente dalla parte robot dobbiamo andare a lavorare sui pin analogico A0 duplica perché dovremmo lavorare sul pin analogico anche A1 vi ricordo che l'asse X è su A0 l'asse Y è su A1 ma dobbiamo anche lavorare sul pin digitale quindi dobbiamo prendere leggi pin digitale dove avevamo collegato praticamente il mio pulsante con la resistenza di pull up che era praticamente il numero 2 bene tutta questa roba ovviamente come sempre non può essere letta direttamente dentro il ciclo per sempre ma ci servono delle variabili quindi andiamo fermo tu andiamo sulla zona dati e blocchi creiamo una variabile anzi più di una la prima variabile sarà ad esempio la variabile X per l'asse X una variabile che chiamiamo Y per l'asse Y è una variabile che chiamiamo ad esempio pulsante per il pulsante appunto allora cosa facciamo ovviamente queste variabili devono essere in qualche modo lette quindi porta pulsante a chi ha pin digitale 2 poi abbiamo porta la variabile ad esempio X al pin analogico 0 e porta la variabile che sarà la nostra Y al pin analogico 1 ok diciamo che qua possiamo con un controllo mettere un'attesa per evitare che i dati siano comunque troppo variabili nel tempo quindi variano troppo velocemente nel tempo a questo punto possiamo lanciare il programma di Arduino come lanciamo Arduino iniziamo a vedere qua sulla parte sinistra come il valore X è 497 il valore Y è 509 perché sto leggendo questi valori? vi ricordo che abbiamo parlato dei potenziometri sono in una condizione in cui joystick non lo sto toccando di conseguenza adesso lui sta un po' saltando non so perché c'è qualche interferenza probabilmente comunque abbiamo che sono a riposo quindi siccome vanno da 0 a 1023 qua a riposo hanno una via di mezzo quindi siamo in ordine nell'ordine dei 512 che è circa metà strada di 1024 quindi a questo punto vediamo se tutto funziona quindi muovo il joystick verso destra voi non lo vedete ma sto muovendo il joystick verso destra vedete la X va a 1023 vado col joystick a sinistra va a 0 vado col joystick verso l'alto e la Y va a 0 vado col joystick verso il basso e la Y va a 1023 schiaccio il pulsante e vedete che quando lo schiaccio va sul valore 0 ok diciamo che questo 0.3 mi sta un po' un po' dando noia prima di mettere 0 qua senza ritardi in questo caso quindi stoppiamo rilanciamo dovrebbe essere molto più reattivo ok vedete 0 l'asse X l'asse Y il pulsante 0 ok bene questi controlli diciamo che stanno funzionando per vedere una piccola applicazione di questo possiamo supporre di creare velocemente un piccolo videogioco supponiamo di far muovere ad esempio il nostro panda in relazione a quello che sta succedendo praticamente sul joystick voglio ad esempio che quando il joystick va a destra lui si muove a destra quando va a sinistra va a sinistra e così via quindi cosa facciamo se non ci porta via troppo tempo facciamo un se e andiamo a vedere quindi quando va a destra la X vedete che sale verso 1023 quando è a riposo è intorno ai 500 quindi io dico ma allora facciamo che quando prendiamo gli operatori prendiamo un simbolo di maggiore quando il valore della X ad esempio quindi dati e blocchi valore della X è maggiore di 600 così siamo sicuri che con le variazioni anche di quando è a riposo non ci dà noia cosa deve succedere? beh la X deve aumentare quindi si deve muovere il mio personaggio facciamo cambia X ad esempio di 10 ok? poi possiamo anche vedere che questo panda in realtà se vado sulla zona costumi vedete che ha due costumi quindi posso pensare in qualche modo di farlo camminare questo panda ok? quindi torniamo allo script vado sulla zona aspetto e prendo passa al prossimo costume ok? vediamo adesso che succede lo vado a mettere qua sotto ok? stop il rilancio a questo punto vado con la freccia a destra vedete che il mio panda inizia a muoversi ok? stessa cosa ovviamente per andare a sinistra cosa faccio? beh cambierà abbastanza poco faccio duplica di questo me lo porto qua giù e faccio che l'operatore ovviamente in questo caso non sarà il maggiore ma sarà il minore quindi operatore di minore dirò che se la x è minore questa volta supponiamo di 400 anche qua devo discostarmi dal punto fair dal punto medio diciamo quando è a riposo il mio joystick allora mi muovo di x pari a meno 10 ok? quindi stop rilancio ovviamente stavo già modificando appunto rilancio programma a questo punto la freccia verso sinistra vedete che il panda va in retrovarcia quindi può andare a destra o può andare a sinistra quindi analogamente può andare sopra e sotto ok? quindi cosa posso fare? posso fare un duplica questo lo porto qua giù non lavoro più sull'asse x quindi la butto via lavoro ad esempio sull'asse y però le considerazioni da fare sono esattamente le stesse quindi se y è maggiore di 600 quindi quando sta andando in questo caso quando è che io ho maggiore di 600? quando sto cliccando verso il basso verso il basso la y maggiore di 600 quindi deve scendere quindi cambia non più x ma deve lavorare in questo caso sull'asse y quindi prendiamo un movimento prendiamo cambia y ad esempio di 10 quindi abbiamo detto di andare verso il basso quindi da y sta diminuendo quindi direi che abbiamo meno 10 questo invece lo posso duplicare lo parcheggio un attimo qua tolgo via questo da qua sotto lo aggiungo ok e qua mi prendo ancora l'asse y quindi dati i blocchi asse y ok quindi stoppo rilancio a questo punto vediamo che il panda si muove a destra va no in basso in altro lo ho invertiti no in basso ah si ok ho messo meno 10 per tutti e tu ok quindi qua cambia y di più 10 perdono quindi stoppo rilancio ok vediamo ok adesso il panda allegramente va verso su verso giù verso destra ok e verso sinistra perfetto manca ancora il pulsante ma analogamente a quanto abbiamo fatto prima per il pulsante questo non si aggancio ok per il pulsante cosa dovrò fare? beh dovrò vedere vedete che quando clicco il pulsante passa a 0 si dovrei passare a 0 ok passa a 0 quindi voglio prendere ad esempio un controllo che mi dice se allora prendo il mio operatore non so perché sta facendo questa interferenza dovrei riguardare qualche cavetto magari che sta andando sta dando noia mettiti al centro ok quindi se allora pulsante quindi operatore di uguale abbiamo detto se la variabile pulsante dati e blocchi variabile pulsante è uguale a 0 quindi quando lo premo va a 0 la variabile allora cosa posso fare? vediamo cosa mi viene possiamo possiamo sparare qualcosa ad esempio ok quindi prendiamo un nuovo sprite prendiamo un altro personaggio cosa lancia il solito il panda possiamo lanciare una palla da baseball ok quindi rimpiccioliamo questo sprite ok perfetto quindi cosa voglio che succeda? che quando io premo il pulsante 0 ad esempio creo un messaggio andiamo su situazioni creiamo un messaggio un messaggio nuovo messaggio scriviamo ad esempio spara ok e quindi lo metto qua sotto a tutti quindi se spara andiamo sul mio pallone da baseball la palla da baseball deve sparire quindi quando clicco sulla bandina verde come aspetto diciamo che lui si deve nascondere poi dico ad esempio dalle situazioni quando ricevo spara cosa facciamo? prima di tutto lo facciamo mostrare gli diciamo ad esempio di raggiungere il mio panda è il panda che lancia la pallina quindi raggiungi M panda adesso cosa voglio fare? supponiamo di volerlo lanciare quindi dal panda parte la palla e arriva da questa parte ok quindi posso fare come controllo un ripeti fino a quando vado ad esempio sui sensori prendo sto toccando il bordo fino a quando sto toccando il bordo cosa faccio? beh deve andare avanti quindi movimento facciamo cambia x di 10 possiamo farlo anche più veloce facciamo un proiettile che aveva di 20 e posso pensare ad esempio di far ruotare come quando lanciano le palline davvero quando tocca il bordo quindi finisce questo ciclo a quel punto lo facciamo uscire possiamo andare anche su aspetto e lo facciamo nascondere nascondere anche il dovere nascondere eccolo qua nascondere ok diciamo che il gioco a questo punto sembra quasi fatto vediamo di stopparlo ok e rilanciarlo a questo punto vedete che la pallina lui si muove adesso sto prendendo male il mouse però il joystick ma si muove quando clicco il pulsante ok la pallina spara forse è troppo veloce ralentiamo un attimo la pallina quindi invece di 20 lo facciamo andare boh quindi c'è ad esempio ok quindi stoppo e rilancio però non parte ok questo programma il ruolo ok vediamo un po' ok così è più accettabile quindi il panda praticamente si muove ah però vediamo un po' ok qua sta andando questo attendi zero non è che mi piaccia comunque il panda si sta muovendo a destra a sinistra vediamo se va in giù ok se va in su diciamo che questi 6 si potrebbero mettere nel 6 altrimenti rendiamo un attimo più veloce il gioco però diciamo che per quello che stiamo facendo per adesso diciamo va bene come situazione bene abbiamo provato il joystick magari vi faccio vedere un attimo sul computer dal telefonino come sta succedendo tutto e poi ci salutiamo ok eccoci diciamo nuovamente sulla parte del telefonino perché voglio farvi vedere un po' la condizione di funzionamento di tutto di tutto il gioco mettiamo ad esempio il gioco a tutto schermo così si vede meglio ok adesso prendiamo agiamo praticamente sul sul joystick a questo punto vediamo un po' quando vado verso destra lui va a destra a sinistra a sinistra in alto sale in basso scende va anche in diagonale se io uso le due cose le due diciamo le due direzioni contemporaneamente cliccando sul tasto centrale vedete che lui lancia anche la biglia ok qua bisognerebbe magari dare un'interruzione un ritardo praticamente nei vari comandi altrimenti magari risente del comando precedente perché ho messo un'attesa pari a zero comunque abbiamo visto come ci può collegare un joystick analogico con arduino ovviamente adesso stiamo lavorando col panda su un blocco però potremo tranquillamente pilotare magari un servomotore o anche dei motori in generale insomma vedremo anche altre applicazioni per questa lezione è tutto a presto ciao 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 ciao